Buon mercoledì pomeriggio, popolo rosso nero, popolo del bandito. Allora, innanzitutto un sospiro di sollievo riguardo all'incidente capitato ieri a fine partita a Morata, non in quanto giocatore del Milan perché ancora non lo è, vedremo se lo sarà, ma in quanto giocatore che si merita di giocare la finale, non per un colpo di sfortuna come clamoroso, come quello che vi ho raccontato stamattina, di saltarla, abbiamo visto le sue immagini salendo sul pullman, è sembrato tranquillo e sereno, però saranno fatte delle visite nel pomeriggio, quindi dovrebbe andare tutto bene, noi saremo sicuri e tranquilli e gioiosi per lui se lo vedremo in campo domenica nella finalissima. Quindi un bel like al video, buon auspicio per Alvaro Morata e per la trattativa, se avete piacere che Morata venga al Milan, iscrivetevi perché siamo vicini a 15.000, vicinissimi, quindi se stai guardando questo video in questo momento fai questo piccolo gesto, iscriviti al canale perché arrivare a 15.000 è un grandissimo traguardo che non avrei mai pensato di raggiungere e campanella per le notifiche ovviamente per ricevere i video. Ma sapete, vi ho detto che oltre a lottare contro il sistema, tra l'altro vi invito a vedere il video che uscirà prima di cena su Soccer Zone 360 in cui racconto le dichiarazioni di un ex arbitro polacco che accusano pesantemente Ceferin di interferenze addirittura col disegnatore Rosetti, non sarebbe una cosa che personalmente mi stupisce, però secondo questo ex arbitro polacco c'è stato l'intervento di Ceferin su Rosetti per mandare a casa Orsato, cosa avrebbe fatto Orsato di così clamorosa, avrebbe dato rigore al Portogallo contro la Slovenia di Ceferin. Se volete tutti i dettagli di questo video, cioè di questa notizia, andate a vedere il video su Soccer Zone 360, mi raccomando, perché insomma torniamo sempre lì, è un po' quello che ci diciamo sempre, però a volte qualcosa viene fuori. Ma la battaglia di difesa del Milan da giornalisti o simil giornalisti che approfittano di tutto per attaccare il Milan oggi prosegue, prosegue col capitolo Longo. Allora Longo è un giocatore svincolato che il Milan ha preso a 32 anni per giocare nell'anno del 23, nel Milan futuro. Questo è diventato è diventata la notizia anche oggi per attaccare il Milan e per far credere sostanzialmente ai milanisti che siamo veramente dei rincoglioniti, che non capiamo niente, che proprio sono i nostri dei deficienti. Perché? Ti faccio degli esempi, non vengo mai senza esempi. Allora abbiamo Andrea De Boni, giornalista, interista, conduttore su Top Calcio 24, si definisce lui così nella sua bio, io non invento niente. Se lui si definisce giornalista, interista, conduttore su Top Calcio 24, quindi Mondo Ravezzani Boys, ci siamo capiti. Fa questo tweet che vado a leggervi, parliamo di Longo al Milan futuro. Questa è la notizia più assurda di calcio mercato. Il senso logico di Longo al Milan futuro è veramente incomprensibile. 32 anni giocherà in under 23, devono avere confuso la posizione dei numeri. Poi abbiamo Attilio Malena, giornalista e ambito Sport Italia. Che senso ha l'under 23 per optare su questi innesti? Allora, questi sono i due tweet che ho letto. Andrea De Boni e Attilio Malena. Allora, io non posso credere che Andrea De Boni, che conduce addirittura la trasmissione su Top Calcio 24 e Attilio Malena, che ha un maestro come Triscitiello, non sappiano il regolamento dell'under 23. L'under 23 può tesserare 4 fuori quota. Io credo non bisogna spiegare a Andrea De Boni e a Attilio Malena che se il regolamento concede questo è giusto usufruirne. Come tra l'altro fatto negli anni passati e in questo dalla Juventus e come fatto dall'Atalanta. Ragazzi, e se lo fa l'Atalanta che è questo totem di perfezione, non sbaglia mai nulla, tutto perfetto, tutto meraviglioso, sarà il colore nero-azzurro che spinge a questi giudizi, comunque tutto bello, bravissimi tutti e noi non possiamo farlo. Allora, adesso non lo spiego tanto a Andrea De Boni che invece lo sa benissimo o a Attilio Malena che invece lo sa benissimo, ma lo spiego a quei milanisti che ho letto nei commenti di questi due personaggi, tra vari siamo allo sbando, società rinincapaci, il Milan pensionati e facciamo ridere. Insomma, questi sono i commenti dei milanisti a questi due personaggi. Quando vi dico, capite, che oramai sta diventando tutto un pecorame, cioè è troppo facile pescare le pecorelle, cioè basta dare l'input e le pecorelle arrivano proprio simili, sono bravissime, subito pronte a mettersi in riga, subito pronte e quindi noi, insomma, almeno io mi sono posto questo difficile, difficilissimo compito di sbugiardare questi personaggi in modo da magari far riflettere qualche milanista in più. E allora facciamoli riflettere un attimino e diciamo a Carlo Andrea De Boni che se c'è questo regolamento lo si sfrutta, no? Come fatto dall'Inter, dalla Juventus, no? L'Inter non può permettersela, forse è per questo che rositano tanto. Andrea De Boni, non avete il cash per fare l'Under 23? Geneminga, come dicono a Milano, geneminga. E quindi, torniamo al discorso serio, anche se questo serve, non ne hanno. È chiaro che perché quattro fuori quota? Perché se io mi presento con una squadra di ragazzini che non ha mai sostanzialmente partecipato a un campionato competitivo, quindi con una squadra di ragazzi che escono dalla primavera in un campionato fatto di marpioni che magari scendono dalla A e dalla B per concludere la loro carriera, per guadagnarsi gli ultimi soldi, ma per guadagnarsi con gli ultimi soldi sono disposti a tutto e sono giocatori magari non di livello per la Serie A o per la Serie B, ma di livello per la Serie C. E allora se io mi presento con tutti i ragazzini e non sfrutto questi quattro fuori quota. Cosa succede secondo te Andrea De Boni o Attilio Malena? Non diventa probabile che il Milan retroceda in Serie D? E tra l'altro novità di quest'anno. E se dovesse retrocedere in Serie D il progetto Under 23 per cui hai investito tanti soldi doveva finire? Lo sai doveva finire Andrea De Boni e Attilio Malena? Va a finire nella spazzatura. Quindi l'obiettivo è quello di rimanerci nell'Under 23 perché il lavoro dovrà essere di anno in anno e quindi per essere di anno in anno bisognerà restarci, salvarsi nel campionato di Serie C che è tutt'altro che facile perché è fatto di vecchi marpioni e quindi tutti i ragazzini non potrebbero reggerlo un campionato di Serie C a questi livelli e probabilmente verrebbero retrocessi. Quindi è questo il motivo per cui il vostro grandissimo gioiello della primavera, Longo, ricordo a Telenombalgia quanto era descritto un fenomeno questo Longo da quei personaggi che la popolano, ricordo benissimo. E quindi sarà Longo, sarà un altro giocatore, quando Orighi e Ballotue troveranno posto saranno altri due giocatori ma saranno quattro i fuori quota ed è giusto che sia così perché ci vorrà uno che in difesa guidi i giovani in difesa, ci vorrà uno che al centrocampo esperto guidi i centrocampisti e noi davanti abbiamo un sedicenne, non un ventitrenne, un sedicenne ed è giusto che gli venga affiancato un giocatore magari come Longo, grande promessa del campionato, grande promessa dell'Inter, come Valentin Carboni forse, spero di no per Valentin Carboni, che magari in serie A e B ha finito, non può dare più nulla, ma in serie C magari può dare qualcosa e noi quel qualcosa lo dobbiamo prendere per aiutare questi giovani, questi ragazzi. Vi sembra abbastanza chiaro, vi sembra abbastanza logico, è Andrea De Boni, Attilio Malena, lo avete capito o ve lo devo spiegare? E i milanisti che invece sotto questi tweet hanno insultato la società per una scelta assolutamente logica e comprensibile, lo avranno capito o glielo dobbiamo spiegare? Ragazzi, è un compito difficile, ma qualcuno lo deve fare. Forza Milan sempre e comunque!